Ciao ragazze, volevo parlarvi perché vi volevo dire se non siete ancora iscritti al mio canale cosa aspettate? Magari abbiamo tantissime cose in comune in questo canale si parlerà di moltissime cose, tra cui le mie creazioni in fimo review, giveaway, tantissimi premi per ognuna delle creative poi si parlerà di nail art, vi insegnerò le nail art che uso io quelle che utilizzano anche i personaggi famosi, ve le insegnerò con metodi semplicissimi tantissimo make up, trucchi di ogni genere i mascara più importanti, i trucchi più importanti e quindi io vi saluto, spero che vi iscriverete in tantissime perché magari ci sarà anche un giveaway in atto scusate, mi sono impaffinata comunque un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!